Un predatore estinto da decenni. Un discendente dei cacciatori più letali. I nostri scienziati hanno selezionato il suo DNA. E ora... sta tornando. Ma che avete capito? È la starna italica! Anzi, per la precisione, la Perdix Perdix Italica. Era estinta in natura e grazie al progetto Life Perdix presto tornerà nel suo habitat. Ogni giorno nuove specie si estinguono. Insieme possiamo salvarle.